Non ve l'aspettavate, non ve l'aspettavate minimamente il video di sabato sera, un sabato sera così a caso però è anche vero che è la vigilia di Monza Juventus, domani andiamo a giocare, una partita che mi piacerebbe analizzare adesso preventivamente per poi vedere quelle che saranno le mie aspettative, se saranno confermate o meno domani sera. Stasera ero libero, uno dei rari sabato sera in cui davvero non sono riuscito a incastrare niente né tra fidanzata né tra amici e all'ottantatresimo minuto di Torino-Sassuolo 0-0 non me la sono più sentita di proseguire con la partita quindi in questo momento sarà diventata probabilmente la partita più bella del mondo in cui ci saranno stati una decina di gol perché mi sono allontanato momentaneamente dalla partita dopo 83 minuti di reti inviolate. Quindi tifosi di Torino-Sassuolo se succede qualcosa sappiate che è colpa mia che mi sono deciso di mettere qua a registrare un video per stasera e per quelli che invece domani mattina si sveglieranno e faranno colazione cercando di trovare alcune informazioni sulla Juventus. Allora prima di tutto vorrei più che evidenziare e sottolineare chiarire una cosa perché qualcuno mi ha detto ma quindi molli YouTube adesso i video li carichi da qualche altra parte? No assolutamente no non ho mai detto questo e non è assolutamente questa la verità la realtà è che domani non uscirà il post partita specifico di Monza Juventus su questo canale YouTube ma sarà su numero 10 che è un'applicazione con la quale sto lavorando e collaborando. Il mio post partita di Monza Juventus uscirà su numero 10 ma soltanto questo post partita nello specifico e altri post partita nei prossimi mesi. Tutti gli altri video tutti gli altri post partita stessi usciranno comunque sul canale YouTube. Mi invito a scaricare l'applicazione per non perdervi comunque nemmeno il post partita di Monza Juve e noi domani sera dopo Monza Juve ci troveremo per un altro video di un'altra tipologia. Quindi non mancate assolutamente nello scaricare numero 10 perché potrete anche vincere delle magliette della vostra squadra del cuore e dovrete inserire la vostra squadra in fase di scaricamento dell'applicazione totalmente gratuita. E ovviamente non perdetevi nemmeno i contenuti che usciranno su questo canale YouTube dopo la partita. E allora perché dobbiamo parlare di Monza Juve? Perché abbiamo già analizzato la conferenza stampa di presentazione della partita di Massimiliano Allegri che domani non sarà ovviamente in panchina per la partita perché è stato squalificato nell'ultima gara con la Salernitana e insieme a lui sono stati squalificati pure Quadrado e Milik che non saranno a disposizione. Se per Quadrado era necessaria probabilmente un pochino di riposo, di turnover, di stacco e poi ovviamente ci sarà pausa nazionale dove il termine pausa forse è abbastanza sbagliato perché non ci sarà tanto riposo da parte dei giocatori che andranno comunque con i nazionali, rimarranno pochi giocatori a Torino tra cui Perini che non è stato convocato da Mancini. Probabilmente per un discorso di gerarchie però dato che non si va al mondiale, secondo me la convocazione di Perini era sacrosanta, non andrà in nazionale. A Torino rimarranno non so quanti calciatori però qualcosina sicuramente sì e quindi vediamo che cosa succede. Milik invece probabilmente è un'assenza più difficile da rimpiazzare oggi come oggi e qua torniamo un po' al discorso che facevo per Kostic perché è vero che comunque Kostic sta correndo e tanto, sta dando tanta corse, tanta quantità all'interno delle partite. Manca ancora la qualità di Kostic, soprattutto dobbiamo migliorare nei cross perché lui ne fa veramente tanti. Lui è un crossatore incredibile, macina decine e decine di cross a partita, decine e decine no però insomma mette tantissimi cross ogni volta, manca di precisione, manca di precisione e da qua serve assolutamente ripartire perché due attaccanti come Vlaovic e Milik vivono di questi palloni all'interno dell'area di rigore anche crossati in maniera decisa e forte come quelli che fa Kostic, quindi bisogna migliorare. Però Kostic sta correndo e anche tanto e Milik sembra ad oggi essere il calciatore più in forma in assoluto di tutta la Juventus. È una coincidenza il fatto che Milik sia così in forma dopo non aver fatto la preparazione con noi perché anche oggi Allegri ha dubitato, ha messo in dubbio anche la preparazione che è stata fatta. A un certo punto dice io ho fatto tanti errori, i cambi, le formazioni, magari pure la preparazione e di questo si sta discutendo anche per un cambio di staff internamente agli uomini di Allegri. Quindi probabilmente anche questa cosa da prendere in considerazione perché Milik è un giocatore che in questo momento sta facendo e come la differenza in casa Juventus e non vorrei mai che potesse essere un Morata 2.0 allacciandomi alla stagione di Pirlo dove Morata arriva facendo la preparazione con l'Atletico Madrid, fa una prima parte di campionato incredibile ogni palla che tocca fa gol, nella seconda parte si fa inghiottire dalla squadra e rimane un giocatore più normale rispetto alla prima parte della stagione. Quindi vediamo che cosa succederà perché secondo me questa straripanza fisica di Milik e questa forma fisica incredibile è data anche dal fatto che ha fatto una preparazione di un tipo diverso col Marsiglia di Tudor che da quanto ho capito in questo momento è ancora primo in Liga. Quindi stiamo parlando di una squadra probabilmente che sta funzionando. Formazione perché Romeo ha twittato. Allora mi sposto un attimo per mostrarvela. Perim, appunto, di cui abbiamo già parlato, Bremer, Bonucci e Danilo, quindi tre difensori titolari, De Sciglio, McKennie, Paredes, Miretti, Kostic, Di Maria e Vlaovic. Penso che con gli uomini a disposizione questa sia effettivamente la miglior formazione possibile in assoluto. Intanto vi chiedo, secondo voi questa formazione con questi undici è un 3-5-2 con Di Maria in appoggio a Vlaovic oppure un 4-3-3 o un 4-4-2 addirittura perché potrebbe essere 4-4-2 con McKennie e Kostic esterni, 4-2-3-1 se vogliamo, con Di Maria e Vlaovic. 4-3-3 con Di Maria e Kostic esterni o 3-5-2 ricalcando esattamente i punti e virgola che ha messo Romeo e quindi Bremer, Bonucci e Danilo, i tre centrali di difesa, De Sciglio e Kostic gli esterni, i tre centrocampisti e Di Maria e Vlaovic in attacco. Può essere veramente tre formazioni diverse con gli stessi uomini. Come dicevamo non c'è Milik, come dicevamo non c'è Quadrado e come dicevamo non c'è Massimiliano Allegri. Allora, voglio fare un passo indietro, adesso abbiamo analizzato la formazione, bene o male dovrebbe essere questa. Allegri aveva detto che aveva il dubbio tra che ne Kostic e quindi magari fa immaginare che possa essere un 4-3-3. Però le precedenti due partite in cui non c'è stato Massimiliano Allegri in panchina, e quindi le due precedenti di Landucci in panchina l'anno scorso, in tutte e due abbiamo segnato 4 gol. Stiamo parlando di Juventus-Sampdoria di Coppa Italia e di Roma-Juventus, 4-1 la partita con la Samp, e 3-4 Roma-Ju, ve la ricorderete, il gol di De Sciglio, quella partita assurda, incredibile, allucinante. E se vogliamo andare ancora più nello specifico, la volta prima in cui abbiamo giocato senza l'allenatore principale in panchina, e cioè possiamo focalizzarci su Juventus-Napoli 4-3, in cui Sarri non era presente, ma c'era Martuscello, Sarri ricorderete, aveva quella brutta polmonite che qualcuno addirittura ha etichettato come caso alfa di Covid, uno dei primi pazienti a zero di Covid in Italia, ma forse era ancora un po' troppo presto. E quindi nelle ultime tre partite in cui non abbiamo avuto l'allenatore in panchina, abbiamo vinto con 4 gol, segnando 4 gol, e nelle ultime due in Serie A abbiamo sempre vinto con il risultato di 4-3. Allora, tanto sono statistiche interessanti, perché ti fanno anche capire che magari a un certo punto, quando manca l'allenatore, forse la squadra riesce a tirare fuori più grinta sotto la fase offensiva, ma forse perde anche qualcosa sotto il punto di vista dell'equilibrio e quindi della fase difensiva, non lo so. Noi più che altro stiamo parlando di un Monza in questo momento che ha fatto un punto in Serie A, ha dovuto esonerare l'allenatore, quindi Stroppa, ha messo Palladino, che in Serie A non ha mai allenato, è un nostro ex giocatore, ha fatto una parte di carriera con noi, ha fatto il primo anno di Serie A, dopo la promozione dalla B, dopo Calciopoli, insieme a noi. Poi, giocatore del quale da ragazzino, ricordo, avevo anche qualche aspettativa, poi non le ha mantenute assolutamente, e non vorrei mai che domani potesse farci lo scherzetto, perché in questo momento, io lo dico e non ho paura a dirlo assolutamente, temo, temo il Monza, temo il Monza, tra l'altro mi sono appena reso conto che ho una maglia di un colore che non va particolarmente bene vista la partita di domani. Temo il Monza, e pensare in questo momento di temere di non fare risultato col Monza, è in primis una sconfitta, perché comunque uno degli slogan principali nel mondo del calcio è rispetto di tutti, paura per nessuno, ma in questo momento la Juventus è malata, la Juventus in questo momento è una squadra con delle difficoltà, è una squadra in confusione, in confusione dentro il campo, in confusione fuori dal campo, in confusione tra la tifoseria, ed era anche da un pezzo che non vedevo la tifoseria della Juventus così unita e così convinta quasi nella totalità di essere veramente un punto morto. È molto più facile in questo momento essere d'accordo sul cambio di guida tecnica rispetto a tante altre volte nel passato, e lo sto avvertendo leggendo sui social, vedendo i commenti che lasciate sotto i miei video, anche banalmente le contestazioni allo stadio, che sono sempre state una cosa abbastanza rara, anche la curva nei confronti di Massimiliano Allegri non era mai stata contro, invece in questo momento vedo che un po' dappertutto questo malumore viene documentato, viene spinto, viene pushato anche da internet. Quindi vediamo che cosa succede, domani sicuramente Allegri non sarà in panchina, vediamo che cosa farà Landucci, la cosa più importante domani è portare a casa i tre punti, non chiedo nemmeno la risposta, in questo momento non mi chiedo nemmeno di chiedere la prestazione, non ce la faccio perché questa squadra è malata, lo torno a dire, questa squadra è malata, questa squadra ha delle difficoltà e domani sarà necessario portare a casa i tre punti, perché poi per fortuna ci si ferma un attimo, per fortuna si possa rimettere un attimo in ordine le idee, e vedremo se domani sarà l'ultima partita di Massimiliano Allegri dall'allenatore della Juventus, anche se non sarà in campo, se così sarà vedremo chi sarà il sostituto, se così non sarà invece cercheremo di capire se Allegri riuscirà a fare un passo indietro rispetto alle sue convinzioni, un passo avanti verso il bene della Juve, perché in questo momento credo che la partita si giochi tutta lì. Io sono pessimista sul fatto che questo possa accadere, perché anche oggi ho visto un Allegri molto sicuro di sé, delle sue idee, e anche la testimonianza dell'articolo di Sconcerti sul Corriere, siccome va in quella direzione lì. Se davvero c'è stato un malumore da parte della Juventus, credo che questo possa eventualmente cambiare, anche una decisione che era stata presa magari in maniera preventiva della conferma di Massimiliano Allegri, ma adesso sono tutte chiacchiere, soltanto chiacchiere, perché la cosa principale in questo momento è concentrarsi su Monza-Juve, una partita che purtroppo mi preoccupa e non avrei mai pensato di dire una cosa del genere, tifando Juventus contro un Monza neopromosso in Serie A che ha fatto un solo punto e ha appena cambiato allenatore.